Eccoci ragazzi, telegiornale e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, come avete potuto leggere dal titolo, è il giorno di Lucas Paquetà. Sì, perché oggi verrà ufficialmente presentato alla stampa alle ore 15 a Casa Milan con i dirigenti Paolo Maldini e Leonardo. Siamo tutti curiosissimi poi di vederlo all'opera sul terreno di gioco. Potrebbe già esordire questa è una notizia il 12 di gennaio quindi in Coppa Italia contro la Sampdoria. Potrebbe fare uno spezzone di partita circa mezz'ora ma ci sono alcune voci che addirittura dicono che potrebbe partire dall'inizio. È un rodaggio diciamo in vista della Supercoppa italiana che poi si giocherà il 16 di gennaio contro l'Iventus dove purtroppo mancherà Suso e quindi Paquetà se dovesse fare bene contro la Sampdoria potrebbe potrebbe giocare addirittura titolare già contro la Juventus anche se Castilleco oggi parte leggermente in vantaggio. Allora cosa c'è da dire su Paquetà? L'operazione è 35 milioni di euro subito al Flamengo più 10 milioni di bonus legati ovviamente a presenze e gol. È un trequartista di piede mancino per chi ancora i pochi non lo sapessero. È un calciatore appunto che io dico sempre bisognerà aspettare. È vero che in questo Milan c'è poco tempo, c'è sicuramente poca pazienza da parte di noi tifosi ma lui viene dall'altra parte del mondo, clima diverso, l'estate qua purtroppo è inverno inoltrato, ci sarà per lui ovviamente un periodo di ambientamento, anche il cibo è diverso, sono piccoli particolari che però in un calciatore fanno sicuramente la differenza. È ovvio che ci aspettiamo tutti come ha detto lui che ci porti delle soddisfazioni. Lui ha detto spero di portare il Milan a vincere dei titoli, ce lo auguriamo tutti ovviamente e staremo appunto a vedere. Ovviamente contro la Sampdoria, notizie di campo, il 12 dovrebbe giocare Andrea Conti, titolare finalmente dopo due anni praticamente fuori. Siamo felicissimi tutti per il recupero di Andrea. Per quanto riguarda ancora, tornando al capitolo Paquetà, sicuramente potrebbe sostituire Cananoglu in questo periodo dove il Turco purtroppo non sta facendo una buona stagione. I sei mesi da gennaio a maggio dell'anno scorso erano stati sicuramente positivi, purtroppo quest'anno il Turco ha diversi problemi. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di Lucas Paquetà. So che molti di voi hanno una grossa stima di questo calciatore, hanno visto dei filmati qua su YouTube. È ovvio che la nostra Serie A è una cosa completamente diversa. Lo abbiamo visto anche con i vari calciatori che sono arrivati. Non voglio citare quelli che hanno fatto flop perché mi auguro e spero vivamente che Paquetà ci possa trascinare. Appunto ragazzi scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione lì su. Se questo video vi è piaciuto di condividerlo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!